Come si gioca al TCG di Altered? Quali saranno le dinamiche che muoveranno il GCC campione di incassi su Kickstarter e sarà difficile comprenderne il regolamento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Con oltre 6 milioni e mezzo di dollari raccolti sulla nota piattaforma crowdfunding, direttamente dalla Francia arriva Altered, un nuovo gioco di carte collezionabili ideato dalla Equinox. E sarà proprio in questo video che ne esploreremo le meccaniche in meno di 20 minuti. Andiamo a dargli un'occhiata. Il campo da gioco per il TCG di Altered vedrà 5 carte avventura che assieme formeranno il tumulto situato tra un campo da gioco e l'altro, scopriremo a breve a cosa servirà, una zona dove posizionare le carte eroe con a fianco le aree spedizione, dove andranno piazzati i character per far avanzare i propri segnalini campione o companion, ne parleremo fra poco, un doppio spazio bipartito destinato alla riserva e ai permanenti, un'area specifica dove sarà presente il mana ed una dedicata al mazzo e alla pila degli scarti. Per iniziare una partita vi serviranno un leader i quali panni vestirete durante il match, un deck composto da almeno 39 carte, sarà da notare che tutti gli elementi inclusi nel mazzo non potranno essere presenti numero superiore a 3 unità per singola carta indipendentemente dalla rarità, un dado da gioco a 6 facce e dei token che andranno a segnalare potenziamenti e status specifici di cui potrete servirvi durante un match. Sarà inoltre da notare che per la composizione di un mazzo non potrete integrare tra gli elementi presenti più di 15 carte rare e 3 uniche, quindi prima di dare inizio ad un match dovrete posizionare le due carte tumulto dove sarà indicata la titula Hero e Companion agli estremi, piazzando poi le restanti 3, dopo averle mescolate a dorso rivolto verso l'alto al centro tra i due campi da gioco formando una fila retta. Successivamente gli esploratori andranno a posizionare i token dell'eroe e del compagno nelle rispettive zone, le troverete raffigurate sulla carta stessa, piazzando sul terreno dapprima la propria carta ritraente il campione che impiegherà per la durata dell'incontro e poi il mazzo nelle proprie aree dedicate. Una volta svolta questa operazione si deciderà quale dei due giocatori inizierà per primo, potrete utilizzare un dado per lo scopo o lanciare a mo' di moneta il segnalino primo giocatore. Deciso ciò andrete a pescare 6 carte dalla cima del deck, piazzandone poi 3 tra esse a faccia in giù nella zona del mana. Tenete bene a mente che non ci sarà un numero limite di carte massimo che potrete avere in vostro possesso, quindi giunti a questo punto si darà inizio al match. Ok Arconte, ed ora che ho pescato le mie prime 3 carte? Scopriamo assieme come leggerle. Ogni carta nel TCG di Altered riporterà, per gli eroi, il nome della carta, la sua tipologia, quante carte saranno disponibili sia nella riserva che nei landmarks, scopriremo fra poco cosa saranno, il logo della casata di appartenenza, il box degli effetti dove saranno riportate le abilità del leader, il codice QR per riscattare la proprietà digitale della carta e tutte le info generali del caso come il numero all'interno del set di riferimento e l'artista che ha realizzato l'artwork. I personaggi avranno un costo di giocata sia dalla mano che dalla riserva, ne parleremo fra poco. La loro rarità? La fazione di appartenenza, questa volta riportata in alto a destra, dove disponibile un'abilità di supporto, attivabile in alcuni casi specifici che apprenderemo a breve, e le statistiche dei biomi, foresta, montagna ed oceano, che vi torneranno utili per far avanzare sulla plancia centrale sia il token companion che quello del leader stesso, più tutto quello che in comune ci sarà con le carte eroe. Le magie avranno tutto quello che in comune ci sarà con le carte leader e personaggi, e i permanenti avranno tutto quello che in comune ci sarà con le carte leader, personaggi e magie, ad eccezione fatta per la posizione del box del nome, della tipologia e della rarità, che in questo caso nello specifico verranno riportati ai piedi dell'artwork invece che in alto. Per quanto riguarderà invece le tipologie utili di carte che potrete includere nel mazzo, saranno a vostra disposizione i seguenti elementi. I leader rappresenteranno un supporto fondamentale per le carte che avrete in campo e raffigureranno sia il campione che il suo companion intenti a dare il via alla loro avventura. Attraverso l'effetto che possiederà questa tipologia di carta, riuscirete a dare una spinta notevole alla vostra strategia di gioco o addirittura frenare l'avanzata di quella rivale. I personaggi rappresenteranno la spina dorsale dell'intero deck. Grazie al loro supporto avrete la possibilità di avanzare con i segnalini di rappresentanza sul tumulto, ed il loro impiego combinato vi fornirà maggiori possibilità di vittoria nei biomi che saranno rappresentati su ogni singola plancia di gioco scoperta. Inoltre, grazie anche alle loro abilità, riuscirete a potenziare altri alleati presenti in campo, o frenare l'avanzata rivale grazie a rimozioni o contromosse varie. Non ci sarà un numero massimo di personaggi che potranno essere presenti sul terreno. Le magie vi aiuteranno a facilitarvi le giocate o contrastare quelle avversarie. Una volta che verranno impiegate dalla mano attraverso il loro costo di giocata, innescato e risolto l'effetto, verranno immediatamente poste nella riserva, pronte per essere utilizzate ancora attraverso il loro costo secondario, a meno che non possiederanno la parola chiave fleeting. La vedremo fra poco. In quel caso finiranno direttamente nella pila degli scarti. I permanenti, come indica anche la parola stessa, verranno giocati direttamente nella loro zona dedicata sul campo di battaglia e resteranno sul terreno influendo sull'andamento del match fino a quando o non verranno sostituiti, capiremo a breve come sarà possibile farlo, o termineranno il loro effetto. Infine ci saranno le carte pedina, che fin dall'inizio dell'incontro resteranno al di fuori della plancia di gioco, venendo evocati all'occorrenza quando una carta ne richiederà l'impiego attraverso i propri effetti. Li riconoscerete perché avranno un dorso differente rispetto agli altri elementi che faranno parte del deck. Quando una pedina lascerà l'area delle spedizioni, verrà sempre rimossa subito dalla partita, anche se una carta esterna dirà di usarla per qualcos'altro. Arconte, prima di continuare, mi spieghi cortesemente la storia della fazione e delle carte che possono essere incluse in un mazzo? Come funziona? A seconda della casata riportata sul leader, che in questo caso sarà Axiom, dovrete necessariamente includere nel deck elementi della stessa fazione e nessun'altra. Per farvi un esempio, il Foundry Armorer potrà entrare nel mazzo di Sierra e Oddball perché condividerà con questi ultimi la casata di appartenenza, mentre l'Event Bouncer no. In Altered comunque, ogni carta comune possiederà due rispettive rare appartenenti ad altrettante casate ben distinte, come ad esempio il Chiron, che sarà presente sia nelle fila dei Braavos che dei Muna, o Hathor, presente sia in Vira che in Izmir, ma il concetto di base resterà lo stesso. Ok, Arconte, perfetto. Ed ora? Non ci resta altro da fare che scoprire assieme le diverse fasi che comporranno un turno di gioco. Il primo step, chiamato Mattina, vi permetterà di assegnare l'indicatore primo giocatore a chi deterrà la mano iniziale. Notate bene? In questa fase, tale indicatore dovrà passare da un esploratore all'altro, quindi se in questo turno avrete in vostro possesso il gettone in questione, nel prossimo passerà sotto il controllo avversario e così via fino alla fine del match. Poi dovrete ripristinare tutte le carte esaurite presenti nella zona del mana e sul terreno, pescare due carte dalla cima del deck e a partire dal primo giocatore, ovvero da chi detiene l'indicatore, posizionare o meno una carta dalla propria mano nell'area del mana. Sarà da tenere a mente che entrambi i giocatori nelle rispettive prime mani salteranno questa fase. Quindi una volta svolte queste operazioni accederete al secondo passo, ovvero il mezzogiorno. Qui a turno sia voi che chi vi giocherà contro andrete ad attivare ogni singola carta presente sul terreno che innescherà il proprio effetto in questa fase della giornata, come ad esempio il permanente Brasbug Hive che specificherà At Noon per dare luogo al suo effetto passivo. Quindi risolte tutte le abilità potrete entrare nella terza fase, il pomeriggio, dove alternandosi a partire dal primo avventuriero ogni giocatore potrà impiegare una singola carta dalla mano. Per farvela semplice, in Altered ogni volta che scenderà in campo o un personaggio o un permanente o una magia passerete la mano all'avversario che, a sua volta, quando giocherà o un personaggio o un permanente o una magia ve la restituirà di rimando. Sintetizzando ancora di più, gioco una carta io e giochi una carta tu. Quindi dopo aver esaurito abbastanza risorse per poter impiegare una carta dalla mano, dovrete decidere su quale terreno far scendere la vostra carta. Se si tratta di un permanente, essa dovrà essere posta nella sua zona dedicata, attivando se possibile i suoi effetti turno dopo turno. Mentre se si tratterà di un personaggio, potrete decidere di utilizzarlo o nella spedizione riservata al companion o a quella del campione. La scelta sarà unicamente vostra e da essa ne deriverà l'avanzamento o meno della pedina o di entrambe le pedine presenti sul tumulto. Vedremo fra poco come potranno progredire sulla tabella centrale. Comunque, prima di far ricorso dalla mano di una qualsiasi carta o prima di passare definitivamente il turno, potrete svolgere quante azioni rapide si vorrà fino a che ne avrete la possibilità. Come ad esempio utilizzare le abilità di supporto, attivabili unicamente dalla riserva scartando la carta che possiederà tale abilità, consentendovi così di dare il via a specifici bonus e le abilità di consumo, che vi permetteranno di esaurire una carta sul terreno per attivarne l'effetto. Ogni qualvolta che vorrete esaurire una carta attiva per innescarne le abilità, vi basterà ruotarla di 90 gradi. Ricordate, eseguire azioni rapide o di supporto non conteranno come giocare una carta, quindi potrete svolgere tali azioni quante volte possibile all'interno di una singola mano. Ok Arconte, se non vorrò svolgere alcuna azione nel pomeriggio perché magari non ne avrò la possibilità o perché ho una mia strategia ben precisa in mente? In quel caso potrete semplicemente passare la mano all'avversario senza svolgere alcuna azione. Ma attenzione, passare vorrà dire mettere fine alla vostra fase pomeridiana, dando comunque la possibilità all'avversario di giocare carte dalla propria mano. Per farvi un esempio pratico, A gioca una carta, B gioca una carta, A passa, B gioca una carta. A questo punto A sarà costretto a passare, dando a B la possibilità di giocare un'altra carta e così via fino a che anche quest'ultimo o non avrà giocate da fare a sua disposizione o passerà a sua volta. Quindi una volta che entrambi gli esploratori avranno passato si potrà procedere al quarto step, ovvero il crepuscolo. Durante questa fase entrambi i giocatori andranno a confrontare i biomi presenti sui personaggi impiegati nelle due differenti spedizioni, per poi decidere quali dei due segnalini presenti sul tumulto avanzerà di uno spazio. Non ho capito questa cosa Arconte, come fa ad esempio il mio leader a fianco della zona dedicata ai token saranno presenti da uno fino a tre simboli raffiguranti per l'appunto i biomi presenti anche sui personaggi. Ebbene per far avanzare le pedine vi basterà sconfiggere l'avversario in almeno uno degli elementi. Per farvi un esempio, a voi servirà per il leader di sconfiggere l'avversario in almeno una delle tre regioni, quindi se vincerete anche solamente in foresta il token farà un passo in avanti. D'altro canto chi vi giocherà contro, sempre lato leader, dovrà battervi o in oceano o in montagna. Stesso discorso varrà per i companion. In questo caso voi dovrete battere l'avversario unicamente nell'elemento oceano, mentre il rivale potrà accumulare un punteggio più alto di voi in almeno uno dei tre biomi presenti nella zona che occupa per fare un passo in avanti. Va bene Arconte, ma come si decide chi avanza e chi prevale a livello di punteggio? Sui personaggi, come già accennato, saranno presenti le statistiche corrispondenti alle tre regioni in questione, andando quindi a sommare ogni valore tra le carte presenti nella stessa spedizione, confrontandoli infine con i diversi punteggi totali ottenuti dai character rivali, si vedrà in quale regioni si saranno ottenuti più punti. Un giocatore che avrà ottenuto un valore superiore rispetto all'avversario avanzerà di una casella, a patto che la vittoria sia stata ottenuta nel bioma che caratterizzerà la zona dove la pedina sarà situata. Nel caso quindi sarà presente solamente l'oceano e si vincerà in foresta, il token non avanzerà. Quando o il campione o il companion procederanno verso una casella ancora occultata, vi basterà girare la carta di riferimento a faccia in su per scoprire a quale nuovo bioma dovrete dare conto. Notate bene, per avanzare il punteggio totale minimo dovrà essere necessariamente maggiore allo zero. Ogni segnalino potrà avanzare di una sola casella a turno. Inoltre dovrete sempre confrontare la spedizione del vostro eroe con quella dell'avversario, anche se essi si troveranno su due regioni differenti e lo stesso varrà per i compagni. Non ho capito quest'ultima cosa, Arconte. Se l'avversario avrà il token leader su una regione che richiederà unicamente il superarvi nella foresta, voi dovrete giocare non solo con l'intenzione di far avanzare il vostro segnalino, ma anche di fermare quello rivale. Ah, ma si possono mettere quindi i bastoni in mezzo alle ruote all'avanzata di chi mi giocherà contro. E come si fa? In due modi. O sconfiggendolo direttamente sull'elemento che gli servirà per fare un passo in avanti o attraverso un pareggio. Infatti se alla fine del crepuscolo i valori messi a confronto genereranno un pareggio, nessuna delle due pedine prevarrà su quel bioma e di conseguenza risulterà come un nulla di fatto. Quindi in sintesi, per avanzare dovrete necessariamente vincere nell'elemento riportato sulle carte tumulto dove i vostri token saranno presenti. Quindi dopo aver anche svolto questa ennesima operazione matematica per decidere quale segnalino avanzerà sulla plancia centrale, potrete passare alla quinta ed ultima fase. La notte. Qui potrete mandare a riposo i personaggi che avrete utilizzato durante l'arco della giornata. Per farlo vi basterà spostarli nell'area presente sul terreno chiamata riserva. A seconda degli spazi riportati sul leader, potrete ritenere tante carte quante richieste. Attualmente il valore standardizzato a 2. Ricordate, le magie, a differenza dei personaggi che dovranno attendere questa fase della giornata, una volta risolto il loro effetto verranno subito dopo poste nella riserva, a meno che non possiederanno la parola chiave fleeting. Eh, ho capito Arconte, ma se ho giocato tipo 3 personaggi ed una magia, come funziona? Semplicemente dovrete sceglierne due tra essi escludendo le restanti che finiranno direttamente nella pila degli scarti. Stessa cosa varrà per i permanenti. Se infatti ne possiederete già due sul terreno e ne giocherete un terzo, durante la notte dovrete decidere quale dei tre mandare nella pila degli scarti, mantenendo gli altri due in gioco. Ora, prima abbiamo accennato al costo dalla riserva. Ricordate? È il valore riportato nel secondo pallino su una carta. Ebbene, se vorrete giocare un elemento dalla riserva, sarà quello il costo tradotto in mana per far entrare uno specifico personaggio in gioco o lanciare una magia per trarne beneficio. Per i character, una volta che avrete deciso di farli scendere in campo, essi otterranno lo status di fleeting o fugace in italiano. Questo vorrà dire che, una volta che la giornata giungerà al termine, ogni personaggio bersagliato da fugace verrà direttamente posto nella pila degli scarti, senza avere possibilità di tornare nella riserva durante la sera. Attenzione! Le carte presenti in riserva, a differenza di quelle presenti nei landmarks o fulcri in italiano, non verranno considerate come controllate, perciò le loro abilità non verranno attivate fino al loro nuovo ingresso sul terreno e non potranno essere bersagliate dagli effetti di personaggi, permanenti o magie avversarie, a meno che non venga espressamente menzionata la riserva come obiettivo. Infine, porrete fine al turno, permettendo al vostro avversario di iniziare il suo. Perfetto Arconte, tutto davvero molto interessante, ma come si vincerà una partita in Altered? Vincerete l'incontro quando i token dell'eroe e del companion si troveranno alla fine del crepuscolo o sulla stessa regione del tumulto o si saranno superate. Non ci sarà in più vittoria per Deckout, infatti non appena il mazzo terminerà e dovrete pescare una o più carte, potrete mescolare la pila degli scarti per andare a creare un deck nuovo di zecca pronto all'uso. Ci sarà comunque la possibilità che qualche match finirà in pareggio, vedendo l'incontro dei rispettivi segnalini nello stesso turno di gioco. In tal caso, si dovrà per prima cosa tenere a mente di quanto i token saranno avanzati. Se uno dei due esploratori avrà fatto almeno un passo in più rispetto all'avversario, egli verrà proclamato vincitore dell'incontro alla fine dello spareggio. Se invece questo scenario non si presenterà, sul dorso della carta tumulto del companion sarà presente un'ulteriore plancia centrale in formato ridotto, chiamata l'arena. A questo punto vi basterà completare un altro turno di gioco, dove però ci saranno alcune regole aggiuntive da tenere in considerazione. Le abilità che faranno arretrare o avanzare i segnalini verranno annullate e si sommeranno i valori di entrambe le spedizioni tra loro per avere un risultato unico da confrontare durante il crepuscolo con l'avversario. Quindi, dopo aver svolto tale operazione, il giocatore che avrà ottenuto un valore superiore all'avversario in almeno due dei tre biomi presenti sulla regione, sarà proclamato vincitore dell'incontro. Nell'improbabile casualità che si presenti un ulteriore pareggio, andrà ripetuta ad oltranza una nuova giornata nell'arena seguendo regolarmente le varie fasi di un incontro. Come sempre, in descrizione vi lascerò tutti i link utili così da migliorare sempre di più la vostra esperienza ludica. E voi, quale coppia utilizzerete per dare inizio all'esplorazione? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.